La città di Cagliari si prepara ad accogliere il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lunedì 16 settembre il Presidente presenzierà insieme al Ministro dell'Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2024-2025, che si terrà al convitto nazionale Vittorio Emanuele II. L'evento, denominato Tutti a scuola, giunto alla 24esima edizione, prevederà la partecipazione di delegazioni di istituti scolastici provenienti da tutto il territorio nazionale, oltre che di artisti e atleti di fama internazionale. Saranno otto, invece, le scuole dell'isola che rappresenteranno ogni provincia della Sardegna. Sarà un piacere ascoltarlo e dargli il benvenuto a Cagliari, ha dichiarato il Sindaco del Capoluogo Sardo Massimo Zedda. Si tratta della seconda visita del Capo dello Stato in dieci mesi. Lo scorso 4 novembre, infatti, aveva partecipato al porto di Cagliari alle celebrazioni del giorno dell'unità nazionale, la giornata delle forze armate.